Au, mi fai male? Fa piano! Ho capito che devi fare pratica, ma non mi devi massacrare la pianta del piede? Beh, se questo è un punto del piede che ti fa male, un motivo c'è. Devi sapere che i piedi sono, come posso dire, sono lo specchio del corpo. Insomma, per capirci, il corpo è riflesso sui nostri piedi e tramite il massaggio il riflessologo va a toccare tutti i punti corrispondenti e nel caso in cui ci fosse un disequilibrio in un determinato punto del corpo, lo riequilibra, prevenendo possibili malattie o disturbi. La riflessologia è un massaggio ai piedi che può essere rilassante, ma anche preventivo e curativo. Per esempio, se schiaccio qui... Aio! Che male! Sì, ho fatto un po' di pressione, ma il dolore significa che la parte del corpo corrispondente al punto dolente non è in equilibrio. Come posso dire? Diciamo che in quel punto c'è un accumulo di tossine, tensioni o infiammazioni in stadi più o meno avanzati. Ma... lì di fianco al piede che c'è? Il lato interno del piede corrisponde alla colonna vertebrale. Aia! Lì mi fa male, eh? Hai mal di schiena? In particolare alla zona lombare? Beh, sì, direi di sì. Già soffro di lombagine. In più, ieri ho aiutato Flavio a spostare i mobili del suo salotto. Sì, insomma, non abbiamo fatto altro che alzare e spostare mobili e oggetti pesanti. Dovrei chiamarlo per suggerirgli una seduta di riflessologia. Figurati. L'ho sentito un attimo fa e anche lui è bloccato con la schiena. Ma dai, anche lui! Ma che uomini fragili che siete! Vabbè, dai, c'è vale che si prende cura di lui! Già, inoltre mi ha suggerito di andare su www.naturopatiaonline.fm nella sezione erboristeria e cliccare su mal di schiena, cervicale, lombare e sciatica. Penso che in questo capitolo ci sono dei consigli molto utili e mirati alla cura e alla prevenzione del mal di schiena. Ma dai, interessante! Mi collego subito!